Ciao a tutti, nuovo video e terza parte del Bookshelf Tour 2023 con Lisa che in questa terza parte mi aiuterà, mi farà da regista, operatore di camera e niente, come le altre due parti, adesso guardiamo la terza parte qui a destra della mia libreria, scaffale per scaffale, la libreria dove ci sono principalmente Enaudi e Mondadori e niente, poi ci rivediamo alla fine per i saluti ecco qua la terza parte della mia libreria, i soliti sette scaffali, quattro scaffali e Naudi, due, tre diciamo Mondadori e in fondo delle piccole case editrici italiane che poi vedremo, andiamo e partiamo dal primo scaffale allora eccoci qua, primo scaffale ovviamente solo Enaudi divisi per collana quindi prima collana, arcipelago Enaudi, non sono ovviamente quindi troverete gli stessi autori in varie collane diverse, Martin Emis, il dossier Rachel e successo che sono i due primi romanzi di Martin Emis, molto belli entrambi poi il romanzo più bello che ho letto di Patrick Modiano nel Caffè della gioventù perduta e Fisica quantistica della vita quotidiana di Pier Giorgio Paterlini dopodiché abbiamo tutti gli Enaudi Tascabili questi qua sono quelli nuovi, diciamo, della nuova veste grafica abbiamo Michele Mari con leggenda privata, tutto il ferro della storia Eiffel Cartongesso di Francesco Maino, l'esordio di Jonathan Franzen che non si legge mai nessuno e che nonostante le imperfezioni è secondo me una delle migliori cose che ha scritto Franzen poi due Fenoglio, la paga del sabato che è forse il mio fenoglio preferito e la Malora Faulkner, l'urlo e il furore, capolavoro assoluto le regole dell'attrazione di Bertistonellis, rumore bianco di Don De Lillo assolutamente, capolavoro l'uomo che cade di De Lillo e americana sempre di De Lillo andiamo avanti, qui dietro in realtà avremmo gli altri Enaudi Tascabili di Nuova Veste Grafica di Zodio Arturo di Elsa Morante Lasciate in pace Marcello di Pier Giorgio Paterlini Tra Donne e Sole di Pavese poi un po' di Salinger, Nove Racconti e Franni e Zoe e La Nausea di Sartre spariti, ciao, salutati a casa vai, prego, prego poi qui abbiamo gli Enaudi Tascabili Vecchia Veste Grafica Memoriae di Volponi Meridiano di Sangue di McCarty che ho detto ultimamente e nonostante tutti lo considerano un capolavoro io non sono riuscito a farmelo piacere Rosso Floyd di Michele Mari che io consiglio sempre come approccio all'autore vabbè, questo è probabilmente il migliore esordio della letteratura esagerando poi Delillo, un bel po' di Delillo Running Dog, Giocatori, Punto Omega questi sono tutti dei Delillo minori e Mao Secondo che invece è minore non lo è per niente ma è una bella povertina sì, assolutamente, concordo poi Elisabeth Costello di Czzi Leviatano di Poloster e Martin Emis uno dei miei autori preferiti Money e la Freccia del Tempo tutti e due consigliatissimi anche per chi non ha letto niente di Emis Andiamo avanti con questi altri Enaudi Tascabili che a me non piacevano per niente perché questa è una costa grigia proprio ma sempre un grigio diverso però non mi dispiace no, non sono molto convinto poi 11 settembre questa è una raccolta di racconti o comunque narrazioni sull'11 settembre perdibile francamente l'informazione di Martin Emis invece è forse il miglior romanzo di Emis di Julian Barnes Amore eccetera insomma va bene La settimana bianca di Emanuel Carrer Lo stadio di Wimbledon di Daniele del Giudice I nomi di De Lillo un sogno americano di Norman Myler questo è un romanzo poco letto di Myler ma assolutamente meritevole poi come il mio prefe sì Enaudi Tascabili classici Moby Dick tradotto da Ottavio Fatica bellissimo Il giovane Holden di Salinger in questa edizione un po' più vintage e Il signor rosso del coraggio di Stephen Crane nei nuovi struzzi qui partono i coralli che ne ho solo due in realtà e sono aspetta aspetta che devo fare qualcosa con lo zoom grandissima vai qui partono i coralli ne ho solo due in realtà Un anno di Jean Eschneau e I mostri di Templeton di Loren Grof che è l'esordio di Loren Grof queste poi sono i tre libri delle letture Enaudi con l'ana meravigliosa e che va recuperata a prescindere di solito Faulkner con Zanzare Il nudo e il morto di Myler e Il centauro di John Hurt che è uno dei miei romanzi preferiti andiamo avanti Super E.T un vecchio Super E.T è Vergogna di K.T dopodiché Trioge di New York di Paul Oster rimane ancora il miglior Oster che ho letto Great John Street di De Lillo Acqua dal sole di Alice che invece proprio non era in grado di scrivere racconti Lunar Park invece è il mio preferito di Bratiston Ellis una raccolta di saggi di Franzen Come stare soli poi Carver questa è la trilogia diciamo i tre libri più importanti di Carver letti questi si è letto tutto Wastar Zita per favore di cosa parliamo quando parliamo d'amore e Cattedrale due Murakami Dance 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 e l'incolore Tazaki Tsukuro forse Dance 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 un pochino meglio però io non avevo molto Murakami e poi qua tutti i super E.T. diciamo nuovi Vite che non sono la mia di Carrère Underworld di De Lillo capolavoro assoluto sono tutti d'accordo d'accordissimo American Psycho di Bratiston Ellis Le Correzioni e Libertà di Franzen un capolavoro assoluto le Benevore di Littel invece il pessimo La Strada di Cormac McCarthy V di Pynchon Le Zordi di Thomas Pynchon dopodiché Il peggior Wallace Breve interviste con uomini schifosi L'ottimo esordio di Wallace La Scopa del Sistema raccolta di saggi di Martin Emis assolutamente Martin Emis bisogna recuperare tutto poi questa è un'antologia di racconti parigini selezionata da Corrado Augas e poi c'è Flashover di Falco e Paris Sivouple di Eleonora Marangoni uno spoiler della situa c'era anche Marco prima qui sopra ora ci sono solo io adesso secondo scaffale in cui ci sono prevalentemente Enaudi Stile Libero poi qua ci arriviamo a vedere ma partiamo da un povero raietto che è questa edizione di Molloi di Samuel Beckett libro meraviglioso libro meraviglioso assolutamente ma molto difficile da trovare io ho trovato in questa edizione i numeri primi che è formalmente Enaudi ma si è una collana sui premi Nobel che però non sapevo bene dove inserire e lo metto qua un po' avvortita tra l'altro ah si assolutamente poi qua abbiamo Enaudi Stile Libero partiamo con questi qua più piccolini Pastoralia di George Saunders Aldo 9 con Puerto Plata Market Bastotuba non c'è di Paolo Nori Scopami di Virginie de Pont Io non ho paura e Branchie di Niccolò Ammaniti dopodiché sempre George Saunders il suo esordio Il declino delle guerre civili americane che adesso trovate con un altro titolo a catalogo Ben Godi se non sbaglio e dopodiché L'incanto dell'849 di Thomas Pynchon sempre il miglior modo per conoscere Pynchon partiamo Ammaniti La vita intima l'ultimo Ammaniti assolutamente fuori forma invece Flashman a pezzi di Brodess Brodess Rackner una delle rivelazioni degli ultimi anni L'animale femmina di Manuela Canepa Le ragazze e Deddy di Emma Klein Rachel Kask Transiti e onori perché reso conto ce l'ho in inglese Giorgio Farco La gemmella H e Ipotesi di una sconfitta sono tutte e due dei capolavori in base a quelli che sono i vostri gusti più fiction meno fiction sono assolutamente due modi per conoscere bene Falco Tommaso Giagni L'estraneo Noah Oakley Prima di cadere in no americano Il dono di saper vivere di Tommaso Pynchon e Thomas Pynchon Vizio di forma La cresta dell'onda quindi gli ultimi Pynchon Cat Person di Christian Rupanian raccolta e racconti che rimane molto valida nonostante siano passati due o tre anni da quando è uscita Violazione di Alexander Sarki Il popolo di legno di Emanuele Trevi un ottimo Trevi nella fiction Il compianto di italiano Trevisan con Works il suo capolavoro e Black Tulips il suo libro uscito postumo qui abbiamo poi John Updike i primi tre libri della tetralogia di Coniglio Corri Coniglio Ritorno di Coniglio Serico Coniglio che Marco ha letto al contrario che io ho letto diciamo partendo dal secondo e poi ho letto il primo e il terzo quindi si possono leggere tranquillamente a caso e mi manca il terzo Riposa Coniglio e Coppie uno dei romanzi più famosi di John Updike Il Repalido di David Foster Wallace anche qui romanzo postumo che però io ho apprezzato molto letto di recente La Nobile Arte del Blef di Colson White che invece c'è ai livelli di Una Cosa Divertente che non farò mai più di Wallace c'è quindi un reportage giornalistico diciamo poco letterario continuiamo con Geoff Dyer Amore a Venezia Morte a Varanasi molto bello devo dire questo ed è forse l'unico libro di Dyer che ho letto L'Ubicazione del Bene è sempre di Falco Letizia Muratori La Vita in Comune La Ragazza che non era lei di Tommaso Pincio che è uno dei libri di Pincio che mi piacciono di più Infinite Jest di Wallace che ho in doppia copia questa è l'edizione Enaudi e questa è la prima edizione Pazzesca Fandango con l'Anna Millevaganti la traduzione è la stessa il testo è identico è solo una questione di veste grafica e di edizione per l'appunto dopodiché Oblio di Wallace raccolta e racconti molto bella Harvey di Emma Klein Un amore dell'altro mondo di Tommaso Pincio che è assolutamente il miglior romanzo di Pincio e il modo migliore per conoscerlo Bontà di Walter City e I cani del nulla di Emanuele Trevi da qui in poi partono i supercoralli Enaudi e visto che questo è un supercorallo un po' particolare 4-1 di Paul Oster l'ho messo qua e qui partono i supercoralli che possiedo anzi non è solo questo scaffale sarà anche quello successivo però comunque spoiler ne ho parecchi sono in out in questa libreria Daniel Alarsson di notte camminiamo in tondo Martin Emis futuro anteriore Lionel Asbo la casa degli incontri e l'ultimo la storia da dentro dopodiché Donald Huntrim la luce smeraldo nell'aria Giovanni Arpino passo da Dio Julian Barnes l'unica storia Elif Batuman l'idiotera molto letto molto chiacchierato secondo me anche molto valido poi Raphael Bob Woksberg che è il creatore di Bojack Horseman ha pubblicato questa raccolta di racconti qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata che però secondo me non è molto interessante diciamo così letterariamente questo è l'ultimo libro di Patrizia Cavalli con passi giapponesi una miscellanea La vita dispari di Paolo con la grande e poi un po' di De Lillo La stella di Ratner bellissimo Enzon Cosmopolis che continua a dire per chi vuole leggere De Lillo vuole leggere qualcosa di breve mamma mia copertina brutta no no mi piace invece dai mamma mia è assolutamente Cosmopolis consigliato Zero K sempre di De Lillo e la nuova edizione con la nuova traduzione di Rumore Bianco ci ho fatto un video e quindi recuperatevi pure quello Spatriati di Desiati penultimo vincitore dello strega De Ditto e Castigo di Dostoghieschi grande scelta questa della nuova traduzione che ho amato molto nella rilettura Glamorama di Ellis e Imperial Bedrooms di Bratiston Ellis ecco sicuramente Imperial Bedrooms è il romanzo meno riuscito del maestro Ellis adesso vai dall'altra parte bravissimo abbiamo fatto questo cambio in diretta poi Natalie Englander scrittore che io apprezzo molto di cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank è il suo libro più importante di un racconto di racconti poi Una cena al centro della terra e Keddish.com due romanzi riusciti ma non particolarmente memorabili Il paradosso della sopravvivenza di Giorgio Falco Dimenticare di Fiore e poi qua parte Jonathan Franzen con Forte Movimento il secondo è dimenticabilissimo romanzo Purity che a me era piaciuto molto e Crossroads che non sono neanche riuscito a finire non benissimo per niente poi Kate Gessen Gessen io direi Gessen ma me lo sto inventando tutti gli intellettuali giovani e tristi anche qui niente di memorabile Arazzo d'amore di John Hawks per chi ha visto la seconda parte del Bookshelf Tour è Arance e Rosso Sangue di John Hawks io l'ho comprato perché pensava forse un'altra lì invece spoiler avevano semplicemente due titoli diversi L'arte della guerra zombie di Alexander Eamon e poi Dennis Johnson La generosità della sirena Jesus Son che in questo caso è a casa di Lisa ma io tengo per sicurezza la sua copertina se no li rovino e mi iscrida si sa mai La città di Vivi il pessimo romanzo di Nicola Gioia Jonathan Littell una vecchia storia questo è il romanzo più virtuosistico e esteticamente bello che ho letto negli ultimi anni Gli incendiari di Kwong e Verderame di Michele Mari continuiamo con i super coralli sempre Michele Mari Le maestose rovine di Sferopoli McCarthy Il passeggero questo sì un grande romanzo di Cormac McCarthy e che mi ha fatto fare pace con quest'autore poi Ian McEwen Macchine come me e Lezioni Il club degli uomini di Leonard Michaels bellissimo bellissimo poi due libri di Mistiroli Fedeltà e Avere tutto Patrick Modiano L'erba delle notti Dall'oblio più lontano Ricordi dormienti i libri di Modiano si assomigliano un po' a tutti forse letto uno letti tutti però veramente una prosa ottima Niente di vero di Veronica Raimo parlarne tra amici di Sally Rooney nel cuore della notte di Marco Rossari poi Walter City che ho in questa edizione in Audi perché vorrei recuperare diciamo la trilogia nell'edizione in Audi Scuola di Nudo e Troppi Paradisi due capolavori diversi ma assolutamente da leggere entrambi il cuore non si vede di Chiara Valerio e poi Jeff Van Der Meere trilogia della rex annientamento autorità accettazione Born che mi è piaciuto decisamente meno e poi di Matthew Wiener Heather più di tutto da qui in avanti tutto Philip Roth tutto Philip Roth in ordine di uscita Lamento di porno e la nostra gang il grande romanzo americano la mia vita di uomo il professore di desiderio lo scrittore fantasma Zuckerman scatenato la lezione di anatomia la controvita inganno patrimonio operazione Shiloh il teatro di sabbat il mio preferito il miglior Philip Roth pastorella americana ho sposato un comunista la macchia umana l'animale morente il complotto contro l'america Everyman il fantasma scena indignazione l'umiliazione nemesi me ne mancano tre se non sbaglio due da leggere e un tre in realtà da recuperare li voglio tutti ovviamente in questa edizione dopo lì che abbiamo due libri su Philip di perché scrivere che è la raccolta di tutti i saggi di Roth che è uscita quando è morto e la biografia di Blake Bailey bellissima sulla vita di Roth da qui in poi per due scaffali e mezzo ci sono tutti i libri mondadori che possiedo iniziamo con la collana scrittori contemporanei italiani stranieri si chiama una cosa del genere la collana di narrativa di mondadori comunque noi felici pochi di Patrizio Bati tremendo poi tutto questo posto è stato rimosso di Anna Berboez Berboez cercavo aiuto nella pronuncia ma va bene poi Matteo Cavezzali Nero d'inferno Il labirinto nelle nebbie le variazioni Bradshaw di Rachel Kask Il mago del cremlino di Giuliano da Empoli I giudizi sospesi di Silvia da Ipra uno dei romanzi più belli italiani usciti negli ultimi anni Cherokee di Jean Eschno non so se Cherokee o Cherokee 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 Jennifer Egan Manhattan Beach e La casa di Marzapane confermo che Egan dopo Il tempo un bastardo non ha più scritto niente di rilevante Il monaco di Mocca di Dave Eggers Il ministero dei casi speciali di Nathan Englander che a me piace molto questo libro Una cosa sull'amore di Jeffrey Eugenidis Gushi di Livia Franchini Città in fiamme di Garth Riesk-Halberg Nessuno ne parla di Patricia Lockwood Il libro di Talbot di Chuck Polanik da qui in poi ci sarebbe Piperno con le peggiori intenzioni Rubato ce l'ha sempre Elisa tornerà assolutamente è uno dei miei romanzi preferiti italiani Persecuzione Inseparabili Dove la storia finisce e l'ultimo di Chi è la colpa insieme con le peggiori intenzioni i miei preferiti di Piperno La gioia avvenia di Stella Poli un ottimo romanzo italiano di quest'anno Miden di Veronica Raimo Odio di Daniele Rielli La caduta dei Golden e Chisciotte di Salman Rushdie dopodiché Vanni Santoni questo è il suo fantasy non particolarmente riuscito Fratelli Michelangelo invece romanzo familiare saga familiare e l'ultimo La verità su tutto Poi continuando in ordine alfabetico Della bellezza di Zaddy Smith NW e Grandi Union sempre di Zaddy Smith Vivere un segreto di Dana Spiotta scrittrice troppo sottovalutata storia di Shaggy Bane di Douglas Stewart non è piaciuto per niente un autore italiano meraviglioso Francesco Targhetta che piace anche a Lisa quindi assolutamente certificato perciò veniamo bene nelle fotografie del suo esordio bellissimo e Le vite potenziali invece è il suo romanzo successivo questo è un romanzo in versi generazionale consigliatissimo Corson White di Ragazzi della Nickel molto bello Il ritmo di Harlem decisamente meno forte Vita di C di Caterina Zaccaroni qua abbiamo una bozza mandata da Mondadori Animale di Lisa Taddeo che a me è piaciuto molto il secondo libro di Lisa Taddeo questi sono i Mondadori che per alcuni anni hanno pubblicato riprendendo il logo della Rosa con la scritta in sulla cima in questo formato quaderno che a me piaceva molto devo dirvi mi piaceva anche il font utilizzato sulle coste insomma mi piace l'impatto anche in libreria di questi libri e poi tra l'altro questi sono tutti bei libri perché La coscienza di Andrew di E.L. Doctro molto bello Eroi della frontiera di Dave Eggers tra la produzione recente di Eggers si difende Eileen di Otessa Moshfag è bellissimo Orfeo di Powers è uno dei migliori Powers Swingtime di Sadie Smith diciamo che è nella media dei romanzi di Sadie Smith e invece Ultime Storie e Altre Storie è veramente un libro imprescindibile qua abbiamo libri di Oscar Volt Oscar fantastica questo è il primo di due volumi in cui viene raccolto tutto Hyperion di Dan Simmons che si fa un po' ai Canterbury Tales di Chaucer in salsa fantascientifica la trilogia di Ancillary di Anne Lecky poi altri due libri di fantascienza Binti di Nedy Okafor che non mi era piaciuto molto e il problema dei tre corpi di Chixin Liu autore di fantascienza cinese di culto e questo è il primo volume di una trilogia famosissima che adesso verrà anche trasposta al cinema l'ho trovato molto macchinoso molto cervellotico e poco godibile queste sono le edizioni nuove di Philip K. Dick comprate perché? solo e esclusivamente per le prefazioni di Emmanuel Carrère e perché comunque sono delle nuove traduzioni di Dick Mondadori lo ha fatto per cinque volumi infatti me ne mancano due dopodiché ha smesso e ha iniziato semplicemente a ristampare le edizioni vecchie di Fanucci sostanzialmente ecco peccato perché poteva fare veramente qualcosa che sarebbe rimasto nella storia dell'editoria e invece si è fermata a cinque libri comunque per chiunque ami Dick sono da prendere per chiunque ami Carrère comunque le prefazioni sono molto belle va bene poi i libri degli altri di Calvino è un epistolario di Italo Calvino l'impero del sogno di Vanni Santone è sempre un libro a cavallo tra il fantasy e il realistico cambio di location cambio di location l'ultima parte dello scaffale è un po' incasinata ma perché d'altra parte Mondadori ne leggo tanti ne compro tanti quindi continuo un po' a spostarli questi sono gli Oscar nelle nuove veste grafica nuova nella veste grafica degli ultimi anni e sono Un amore di Dino Buzzati il lupo della steppa di Armanesse che mi ha regalato Lisa molto bello tutti leggono sempre si d'arta ma invece l'upo della steppa è assolutamente forse per ora è il più bello di esse che ho letto molto bello lettera a nessuno di Moresco che io ho adorato ovviamente fiorirà la speedistra di George Orwell un Orwell diverso rispetto a il classico che viene letto class di Francesco Pacifico bellissimo e vabbè qui siamo di fronte a un capolavoro assoluto della storia della letteratura molto bello guardate che mi bullo un attimo non le facciano tutti ormai però carino carino anche l'autografo qua dietro cosa abbiamo vecchia edizione delle fondazioni di Asimov e adesso voglio recuperare la nuova traduzione a cura di Vincenzo Latronico e qui abbiamo le strade blu con la strade blu il primo che passa è Gianluca Nativo l'uomo autografo di Zadie Smith che è il mio preferito di Zadie Smith Puttane per Gloria di Volman purtroppo fuori catalogo e poi Colson Whitehead il colosso di New York Apex nasconde il dolore e Seg Harbor a provviso sono apparse qui davanti abbiamo le meduse Mondadori ristampate nei primi 2000 Mondadori ha ristampato 10 numeri del 10 volumi più importanti più iconici della collana più iconica di Mondadori che è la collana delle meduse io non le ho tutti mi manca Lolita di Nabokov che è il numero 9 e non riesco a trovarla la prossima parte purtroppo perché poi le ho trovate anche tutti in buone condizioni tra l'altro Orlando di Virginia Woolf Il mondo nuovo di Huxley Buio a mezzogiorno di Kessler America di Kafka La fattoria dei animali di George Orwell La neve Era sporca di Simenon L'uomo in bilico di Solbello sulla strada di Kerouac e Opinione di un clown di Eric Ball Passiamo all'ultimo e più basso scaffale della libreria l'antro nascosto e buio Una grande cameraman Bravissima Mi si grideranno tutti perché Assolutamente no Generazione X di Douglas Coupel in questo formato quadrato che ovviamente non so dove mettere quindi lo infilo sempre da qualche parte a caso qui abbiamo un Volman anche qui non facissimo a trovare che è zona proibita che è una sorta di reportage che ha scritto dopo il terremoto in Giappone e quindi il problema nucleare e meraviglioso anche questo è una sua follia dopodiché questi sono un po' di Oscar Mondadori ci sono Oscar Mondadori qua e Oscar Mondadori dietro Moresco gli esordi e i canti del caos le cose migliori che ha scritto Moresco poi balo di famiglia di David Lewitt le vergini suicide di Jeffrey Eugenides un po' di Dave Eggers partiamo da qua l'esordio l'opera struggente un formidabile genio non è mai riuscito a scrivere qualcosa di meglio il cerchio ologramma per il re e questo libro molto sperimentale con un titolo lunghissimo i vostri padri dove sono i profeti vivono forse per sempre scritto solo ed esclusivamente col dialogo diretto poi giuno caduto tutto caduto assolutamente tutto giuno diaz la breve e favolosa vita di Oscar Wao è così che la perdi che è il secondo ultimo libro non ho più visto niente pubblicato da giuno diaz che è caduto un po' questo è come fare questo mi è dimenticato io gli ultimi fuochi di Fitzgerald poi il polacco lavatore di vetri di albinati questi sono degli oscar che hanno un formato strano loro mi servono proprio per andare a tamponare i buchi vicino ai cardini della libreria Amy Ampel ragioni per vivere secondo me la miglior raccolta di racconti americani che potete trovare in giro albero di fumo di Dave Johnson è un'eccezione è un clandestino perché non l'ho letto in realtà però è scandalo è scandalo poi uccellino del paradiso di Joyce Kerloz storia della mia purezza di Pacifico poi il fabbricante di Echo di Richard Powers i versi stranici di Salman Rushdie molto bello i denti bianchi di Zadie Smith e questi oscar classici credo che si chiami classici moderni classici moderni il signore delle mosche di William Golding Hemingway addio le armi il vecchio al mare 49 racconti per chi suona la campana tutto bello Hemingway tutto 1984 George Orwell assolutamente e petrolio di Pasolini questi sono degli oscar un po' strani sono due tiziano sclavi che sono ovviamente fuori catalogo perché sclavi ha mandato tutto al macero sogni di sangue e apocalisse e cemento di Thomas Bernard facciamo vedere questa bellissima trash edizione trash di cemento di Bernard qua abbiamo una piccola biblioteca Oscar guida galattica per autostoppisti di Adams libera i miei nemici di Rocco Carbone drown a picco di Juno Diaz per alleviare insopportabili impulsi di Natalie Englander Fight Club di Jack Polanick e l'intuizionista di Colson Whitehead che è il mio Whitehead preferito l'ultima parte qui a destra dell'ultimo scaffale di questa libreria abbiamo Wojtek Chiare lettere e Tunue quindi partiamo da Wojtek vocabolario minimo delle parole inventate a cura di Luca Marinelli un'antologia di racconti poi storie che si biforcano di Dario De Marco tutto finisce con me di Gabriele Esposito Annette di Marco Malvestio ciao Marco timidi messaggi per ragazze cifrate di Ferruccio Mazzanti Diario del Caos di Antonio Moresco che è proprio per i fanboy di Moresco nessun altro può essere interessato a questo libro completissimo ma assolutamente e poi Alfredo Palomba teorie della comprensione profonda delle cose e quando le belle arriveranno poi Chiare lettere questa è la collana altrove di Chiare lettere diretta da Michele Vaccari che è durata poco purtroppo ed era una collana in cui autori che non scrivevano libri di genere a cui è stato commissionato di scrivere un po' alla loro maniera dei distopici Furland di Fulio Voledo La Festa Nera di Violetta Bellocchio Il Grido di Luciano Funetta che è senza dubbio il migliore di questa collana fanboy anche oggi di Luciano Funetta di Funetta sempre Prima che te lo dicano gli altri di Marino Magliani Risorgere di Paolo Pacell che mi era piaciuto molto sì davvero dell'amor crudere di Ipermonian che è sempre è un libro di Ipermonian cioè qui il distopico è un libro di Ipermonian perché lui scrive sempre nello stesso modo Necropolis di Tedoldi bellissimo e l'invenzione degli animali di Paolo Zardi qui abbiamo invece la collana di narrativa di Tunue gestita e diretta da Vani Santoni ovviamente questa era la nuova e ultima veste grafica in cui c'era anche un libro di una autrice svizzera configurazione Tundra di Mirabelli mio padre era un uomo sulla terra in acqua una balena di Michel Steinbeck e Tacquino delle piccole occupazioni di Graziano Graziani qui invece la classica veste grafica di Tunue Stan in più bianca di Jacopo Barison l'amore a ventane di Giorgio Bifferali la stanza di Therese di Francesco Disa vabbè dobbiamo dirlo dalle rovine di Luciano Funetta ovviamente mescolo tutto di Jasmine in Cretolli lo scuro di Orazio Labate tutti gli altri Francesca Matteoni est di Gianluigi recuperati tabù di Tedoldi che è il mio romanzo preferito di Tedoldi e il giorno della nutria di Andrea Zandomeneghi e questa era la mia libreria la terza parte del Bookshelf Tour Lisa ride perché abbiamo registrato ovviamente questa clip prima di fare il video di tutti gli scaffali però non è abituata alla magia del cinema alla magia del montaggio comunque a parte gli scherzi qui sotto come al solito scrivetemi e commentate pure se avete domande o questioni sui libri che vi ho mostrato spero che questi tre video vi siano piaciuti vi abbiano intrattenuto e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao